Su questi Audi A4 con installato il sistema MMI Basic Color con monitor a colori da 6,5 pollici ed autoradio concert abbiamo installato tramite l'ausilio di un'interfaccia un modulo tv digitale ed un sistema di navigazione integrati perfettamente nello schermo originale. Questo è il nostro modulo tv digitale che gestisco con il mio telecomando, il sistema è un quantum piuttosto buono tra i vari sistemi digitali anche se la parte sicuramente più interessante è quella della navigazione. La mia navigazione viene gestita tramite il mio joypad che dall'utilizzo è più simile a un mouse che è un classico telecomando, è ovviamente europea in sd card e come si nota è perfettamente integrata nel monitor. Ovviamente ho delle indicazioni anche vocali tramite un altoparlante a parte che viene appositamente nascosto, menu piuttosto intuitivo. Ovviamente come si vede qua c'è l'elenco dei paesi europei presenti. Quindi è un sistema assolutamente completo che per questo tipo di vettura che solitamente con il sistema basic color non sono usate di navigazione permettono di eseguire l'installazione successivamente. Per qualsiasi informazione o preventivi contattateci. Ciao a tutti da Andrea del Sile di Brescia.